Vittoria esterna per l'alta giudicarie, a Cadezzone non c'è pietà per i padroni di casa che perdono 6 a 0. L'alta giudicarie approfitta così del mezzo passo falso del Trambileno. Dopo la rete di Nicolussi, Salvadori prova il pallonetto, Norman Vazzoli interviene sulla linea di porta e segna, ma l'arbitro gli toglie la gioia del gol, gioia che non li può togliere al 43esimo quando segna. Con questo tiro dai 25 metri si insacca sotto la traversa. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per la rete di Salvadori, prima il tiro di Norman Vazzoli, poi sulla respinta è facile facile il gol del numero 9. Nella ripresa entrambe le squadre cercano la via della rete, gli ospiti provano con questo tiro centrale, mentre i padroni di casa sono pericolosi con questo tiro cross che nessuno tocca in porta. Nel finale i grigiorossi colpiscono anche un incrocio dei pali, ma riescono a dilagare e mettere il punteggio sullo 0-6. Nel finale i grigiorossi colpiscono anche un incrocio dei pali, ma riescono a dilagare e mettere il punteggio sullo 0-6. Nel finale i grigiorossi colpiscono anche un incrocio dei pali, ma riescono a dilagare e mettere il punteggio sullo 0-6. Nel finale i grigiorossi colpiscono anche un incrocio del western Pen Grandpa